Coach Strullo, Leo Filkem, Roseto, meritatamente in finale, playoff riservi per salire di categoria, per salire in due, batte al Palamaggetti in gara tre, la Real Sebastiani in rete, punteggio rotondo, 76-60, partita dal secondo quarto in poi, ma in discussione coach. Sì, eravamo partiti in sordina un po' con tratti nel primo quarto dove loro, ma me l'aspettavo, hanno buttato tutto quello che avevano dentro giocando con grande aggressività e questa roba chiaramente poi l'abbiamo un po' aggiustata, abbiamo cominciato a difendere anche meglio anche noi, abbiamo cominciato ad attaccare un po' meglio e poi una volta messo il naso avanti a quel punto non c'è stata più gara perché abbiamo avuto l'inerzia praticamente quasi sempre noi. Tolti i primi dieci minuti è stata praticamente una partita perfetta, da ambo i lati del campo si è in difesa e si è in attacco, probabilmente l'entrata di Andrea Pastore e di Valeria Morosa scosso a livello offensivo la squadra dal secondo quarto in poi. Sì, perfetta direi no, però chiaramente sì, nel senso che in panchina abbiamo gente esperta che ha come Ruggero Amoroso, è lo stesso Pastore che fino a poco tempo fa prima dell'infortunio giocava in quintetto, quindi sono tre giocatori molto importanti e ogni volta che entrano ci danno qualcosa in più. Però quelli che hanno giocato anche prima, soprattutto anche le altre partite ci hanno dato tantissimo, adesso la rotazione è a otto, prima era anche a nove perché utilizzavo anche spesso gocciaretto. E' importante, sono importanti i giovani, sono importanti i giocatori esperti, è chiaro che nelle partite di playoff poi le vinci anche con gente che è abituata a giocare queste partite e abbiamo bisogno di questi giocatori. Però diciamo che per migliorare ancora, secondo me difensivamente qualcosina possiamo fare ma siamo quasi al top per la squadra che siamo, offensivamente invece possiamo ancora migliorare. C'è Roseto che domenica si siederà comodamente sul divano per vedere la gara tra Luis e Roma e Nardò, gara 4 meglio, facendo il tifo probabilmente per la Luis per andare alla Bella. Sì, è chiaro che se dovesse vincere la Luis e passare il turno noi avremmo anche la finale in casa e quindi sarebbe un sogno. Però è chiaro che Nardò è più forte della Luis, gioca in un campo piccolo, in un campo dove sarà difficile soprattutto adesso che hanno riaperto al pubblico e quindi la favorita vedo ancora Nardò. Spero almeno che vada alla quinta partita, alla quinta gara, cioè il ritorno mercoledì, così avrà pochi giorni magari per preparare la partita contro di noi.